Buonasera, la Madonna è venuta a noi particolarmente gioiosa e felice. Ci saluta a tutti con suo saluto materno, se l'ho dato Gesù, cari figli miei. Poi la Madonna stende le sue mani e prega sopra tutti noi presenti qui, in montagna, la sua lingua aramaica, un tempo prolungato. Poi Madonna frega particolarmente sopra voi malati presenti e sopra voi giovani. Poi la Madonna dice, cari figli, anche oggi gioisco insieme a voi in questo tempo della grazia, particolarmente gioisco quando vedo così tanti miei figli che sono felici durante questi giorni. Vi invito, cari figli, di pregare durante questo tempo per la pace. Pregate per la pace, la pace che regne nel cuore dell'uomo, che mio figlio dimorerà nei vostri cuori, che vi porterà la pace, perché lui è la vostra pace. Io prego, cari figli, e intercedo presso mio figlio per tutti voi, perciò perseverate anche voi nella preghiera e non abbiate la paura. Continuate a pregare. Grazie, cari figli, per la vostra perseveranza e grazie perché anche oggi avete risposto alla mia chiamata.